Abbiamo campionato le acque del lago di Sia per la ricerca di questo contaminante. Lo raccontavo ieri sera su una platea, devo dire, insomma, nutrita, come ormai siano famosissime le immagini della Pacific Trash Vortex, la famosa isola di plastica dell'Oceano Pacifico. Bene, non è così, queste isole suono ovunque e purtroppo anche le acque interne, inclusi i nostri lati, sono interessate per questo fenomeno.